Soleil e Alex sempre più complici. In Giardino parlano del rapporto di Gianmaria e Sofi. Soleil esprime il suo giudizio. Per me Sofi e Gianmaria stanno fingendo. L'altro giorno è bastato che li facessi ingelosire stando sempre vicino a Gianmaria per farle cambiare idea. Infatti Sofi non vuole perdere la visibilità delle clip sulla loro coppia. Ma non è interessata a lui. È solo attrazione fisica. Alex risponde. Secondo me stanno fingendo. A questo punto Soleil limita i discorsi tra Gianmaria e Sofi che sono praticamente muti e parlerebbero solo di cose effimere come darsi o non darsi un bacio. Perché non hanno nulla da dirsi. A differenza di Miriana e Nicola che parlano anche di altro. Alex e Soleil hanno stretto una intesa nella casa e sparlano molto alle spalle degli altri. Ma quando vengono poi svelati in puntata la fanno passare come uno scherzo. In special modo Alex Belli che poi va dalla persona interessata per spiegargli a modo suo perché lo ha fatto raggirandolo. Dall'esterno possono essere personaggi che fanno animare la casa creando polemiche e dinamiche. Mentre dentro la casa Alex e Soleil possono essere visti come personaggi scomodi e poco avvezzi ai rapporti umani. Canale YouTube Fabio Pecce